Siamo più forti, quindi abbiamo meritato sia l'andata che il ritorno. Adesso andiamo ad Alba Triatica e non so che vuole l'accoppiamento, se mi aiuti. Col Cotton Club l'accoppiamento. Col Cotton Club, il Cotton Club deve vincere. Ha dichiarato il mister che sono i più forti, l'ha poi dichiarato. Siamo i più forti, abbiamo miglior difesa, miglior attacco, miglior giocatori. Quindi noi andiamo lì tranquilli. Se perdiamo abbiamo avuto i più forti. Se vinciamo i più forti rimarranno male.